A Fano c'è una onlus conosciuta in tutto il mondo che con la sua incessante opera di sensibilizzazione e le raccolte fondi a favore di chi lotta ogni giorno per la sopravvivenza ha salvato migliaia e migliaia di vite umane. Ha costruito non solo opere di muratura ma ha costruito e fortificato anche le coscienze delle persone, lasciato segni indelebili negli animi dei suoi volontari che, una volta tornati alla vita civile, non vedono l'ora di ripartire, afflitti ormai irrimediabilmente dal Mar d'Africa. Questa associazione si chiama l'Africa Chiama e dal 2001 vive, opera e lavora per il continente africano, sotto la guida e l'impulso irrefrenabile di Italo Nannini. Sono stati 15 anni di impegno e di interventi concreti a favore oggi di circa 18.000 persone, in prevalenza bambini e ragazzi con grave difficoltà, in particolare ragazzi di strada, bambini con disabilità, future mamme sieropositive ed altre categorie sempre le più svantaggiate e le più vulnerabili. Inoltre domani, sempre in questo convegno, festeggeremo la giornata nazionale del dono. Donare noi affermiamo che è molto di più di un semplice dare, quindi per divulgare, per diffondere la capacità di donare, riaffermando e sapendo che è un modo per essere felici e rendere felici gli altri, quindi scoprire la gioia di donare. A questo incontro introduttivo seguirà una cena solidale. Invitiamo tutti, chi fosse interessato, è pregato di contattarci per prenotarsi e così insieme passare una serata per ricordare i primi 15 anni dell'Africa Chiama.